Il Movi è una realtà ormai fortemente consolidata nel territorio, tant'è vero che riesce ad aggiudicarsi addirittura un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delle possibilità enormi. In realtà il bando è stato di fatto vinto da una cooperativa che è stata creata ad hoc, che è la cooperativa Progetto H, però è vero che la Casa del Volontariato è diventata una social question factory, noi diciamo proprio una fabbrica della questione sociale, perché abbiamo la necessità di dare risposta a questo territorio che non ha, questo è un territorio che è arido di proposte progettuali socialmente importanti. Allora mettere sotto sopra significa in qualche modo iniziare a guardare le cose con occhi diversi e questa è una straordinaria opportunità per 18 giovani che avranno la possibilità di fare un percorso di crescita per acquisire delle competenze tecniche e successivamente provare a creare occupazione. All'interno di un gruppo che si mette a lavorare insieme per la prima volta una delle cose da fare fondamentali è quella di creare appunto relazioni tra le persone e questo si fa con delle simulazioni per esempio, con delle attività che permettono di accelerare i processi di conoscenza tra le persone che sono fondamentali perché poi se delle persone che faranno questo percorso dovranno a un certo punto scegliere se farne un lavoro o no, è importante che queste persone abbiano fiducia l'uno nell'altro e su questo lavoreremo abbastanza accanto a tutto quello che saranno gli aspetti tecnici e quindi le competenze appunto che ci vogliono per portare avanti una cooperativa che si occupa di produzioni tv. Quali sono gli ambiti delle competenze che verranno approfonditi? Saranno quelli della formazione di questo gruppo di partecipanti al progetto rispetto alla realizzazione di format televisivi, quindi tutta la formazione che riguarda il diventare operatori piuttosto che registi, fonici e quant'altro. L'idea è quella di costituire un gruppo di professionisti che dopo a fine percorso del progetto possano con le proprie gambe andare avanti. Avrete a disposizione certamente una grande quota di tecnologia, che cose esattamente utilizzerete e il bando ha previsto l'acquisto di quali attrezzature? Ha previsto l'acquisto di attrezzature di ultima generazione, tanto che siccome ci lavoriamo su questo progetto da un paio d'anni, nell'arco di questi due anni siamo stati costretti più volte a cambiare attrezzature in quanto la tecnologia sappiamo benissimo che da mese in mese fa passi da giganti. Quindi noi abbiamo scelto, giusto qualche mesetto fa con Alberto, perché noi lavoriamo a stretto braccio, attrezzature di ultimissima generazione che si utilizzano nel mondo del cinema. Cercheremo di dare assieme ad Alberto delle nozioni come tecnica di ripresa, sia nell'ambito televisivo che cinematografico, giusto per seguire i ragazzi, per iniziare a far capire qual è il linguaggio cinematografico.